Stasettimana è proprio difficile, domande del catechismo, opere di misericordia, articoli del credo, la conversione, il gioco dei 40 giorni per 40 domande si fa sempre più difficile, ma credo che ce la faremo, non dobbiamo dubitare. Intanto però il mio vero problema è capire come fare per sistemare questo lavandino che perde. Ciao Don, come facciamo a spiegare ai bambini il concetto del generato e non creato che recitiamo nel credo? Ciao, la tua domanda potrebbe sembrare un po' decontestualizzata perché ciò che mi chiedi è anzitutto un aiuto come fare con i bambini, inoltre il contenuto di ciò che chiedi sembra, a primo avviso, che abbia poco a che fare con la quaresima. Per questo cerchiamo di andare con ordine. Anzitutto, ai bambini bisogna sempre spiegare le cose per come noi le abbiamo comprese. Ma comprendere non nel senso di capire, bensì di vivere. Della teoria non se ne fa più niente nessuno. Ciò di cui abbiamo bisogno è di gente che abbia vissuto quello che racconta o testimonia. Pertanto la domanda di partenza che dovresti farti è la seguente. Io, ho mai vissuto l'esperienza del generato non creato? Sì, dell'esperienza, perché il nostro Dio è il Dio della storia, non dei concetti e delle idee. Mi potrei dire, Don Marco, ma che domanda è? Piano, ti chiedo di avere pazienza. La domanda che ho posto ora è grezza. Facciamo tutto a piccoli passi. Quella domanda, in senso esperienziale, possiamo dirla più correttamente in questo modo. Io ho mai vissuto sulla mia pelle qualcosa di generato ma non creato? In effetti no, perché tutto ciò che noi abbiamo davanti agli occhi è stato sì generato ma anche creato. Un esempio. Un bambino non è la somma della volontà di due genitori. Quanti genitori vorrebbero avere figli ma non ci riescono? I bambini sono generati ma sono anche creati perché vi è l'intervento di Dio. Così accade nell'esperienza artistica. Si genera un'opera d'arte ma ci vuole l'ispirazione che viene da Dio. Dunque l'opera d'arte è generata e creata. È generato e creato tutto ciò che vediamo, che non dipende solo dall'uomo ma che ha una relazione stretta anche con Dio. E dunque cosa è generato ma non creato? Qualcosa che possiamo sperimentare ma che non ha una relazione anche con Dio, bensì è Dio stesso. Gesù infatti è una persona che possiamo incontrare, cioè sperimentare, che ha un punto di origine che è il Padre ma che essendo Dio non è stato creato come le altre cose. Infatti Gesù esiste da sempre anche se normalmente lo si chiama figlio o seconda persona della Trinità. Nell'eternità Dio lo ha generato da se stesso. Dio Padre è in sé un amore talmente grande da poter generare da solo un altro, senza bisogno di crearlo, perché appunto questo amore supera ogni limite. Dunque, per non essere troppo lunghi e cercare di arrivare anche al sodo, il concetto generato non creato serve a noi per capire che se Gesù, il figlio di Dio, la seconda persona della Trinità, esiste da sempre, sebbene si sia incarnato solo quando è nato nel grembo di Maria, è anche vero che il figlio scaturisce dal padre come un idraulico maldestro, buca una tubatura dall'acqua e ti inonda la casa. Cioè il figlio non viene da sé stesso, ma viene dal padre, scaturisce da lui, ma essendo della stessa natura, cioè la natura di Dio e del Dio lui stesso, non potrà mai essere creato, perché è eterno. Il lavandino non sono riuscito a sistemarlo, domani verrà l'idraulico. La domanda forse nemmeno. Ma come disse quell'angioletto ad Agostino che cercava di comprendere la Trinità, è più facile riempire una buca sulla spiaggia con l'acqua del mare che mettere nella nostra piccola zucca l'infinità di Dio. Buona serata e a domani.